Ciao a tutti, oggi 28 marzo 2017 e in Commissione Sport abbiamo trattato il tema delle barriere sulla curva nord e sulla curva sud dello stadio olimpico. Dopo un sensibile abbassamento delle barriere stiamo gradualmente arrivando alla rivoluzione totale delle stesse. Questo è il secondo appuntamento della Commissione, tre mesi fa ci siamo visti per la prima volta e appunto ci eravamo dati appuntamento a fine marzo per un aggiornamento della situazione. I tifosi si sono comportati bene quindi sono meritati appunto questo abbassamento delle barriere e tra poco molto probabilmente la loro rimozione totale. A metà maggio quindi ci rivedremo per un ulteriore aggiornamento e per studiare un progetto che riguarda la possibilità di far assistere al tifo organizzato alla partita in piedi come avviene in Inghilterra e Scozia con una standing area quindi dove la trifoseria appunto potrà seguire l'evento sportivo con la libertà di potersi muovere cosa che effettivamente adesso ancora non avviene perché nonostante appunto siamo riusciti ad andare verso le diminuzioni del barriere ci sono ancora i posti assegnati singolarmente. Con questa ulteriore operazione contiamo appunto di raggiungere l'obiettivo prioritario che è quello di avere uno stadio sicuro ma anche pieno. Esattamente e ci diamo come prossima scadenza e il prossimo mese di inizio. Ciao. Ciao.